Mister Chianetta, sesta vittoria su sei partite da Tilo che viaggia a punteggio pieno. Anche oggi un 3-0 solta, una prestazione più che convincente. Sì, oggi mi è piaciuta la squadra per l'intensità, per il gioco. Affrontavamo un ottimo avversario, era uno scontro prima contro seconda. A prescindere dalla classifica sapevamo che era un ottimo avversario perché a noi era gente come Panepinto, Polito, Messina, Palazzo, Iacono. Parliamo di una squadra importante che dirà la sua sicuramente in questo campionato. Oggi penso che abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo solto il profilo del gioco meglio rispetto alle altre partite e penso che poi alla fine il risultato sia meredato. Si può dire che questa, per assurdo, nonostante le altre sono state tutte vittorie, sia stata quella più convincente del Dattilo in questo campionato? Sì, diciamo che sotto il profilo del gioco è qualcosa in più, dunque se la dobbiamo mettere sotto il profilo del gioco sì, però è importante dare continuità ai risultati, è importante portare avanti quella che può essere l'idea di gioco. Raramente cerchiamo di buttare la palla, cerchiamo di giocare a calcio e penso che alla fine queste partite, queste vittorie sono meritate. Adesso, poi, nella prossima giornata ci sarà il Castellammare, unica squadra in grado di battere il Dattilo Nuara, seppur in Coppa Italia in questa stagione. Sì, andiamo a Castellammare, consapevoli della forza dell'avversario, consapevoli che è un'ottima squadra, ci andiamo a giocare la nostra partita, magari con un po' di cattiveria rispetto per l'eliminazione di Coppa, sto scherzando nel senso che hanno meritato e hanno passato il turno. Da martedì penseremo a questa partita, come tutte le altre partite, quello che viene ci prendiamo. A Cursio Sclafani, una partita per voi che si era messa bene, poi appena il Dattilo l'ha sbloccata, però avete faticato a rientrare in partita? No, sinceramente non sono d'accordo, perché avevamo fatto un grandissimo primo tempo, non avevamo rischiato nulla, tant'è che il portiere era inoperoso riguardo il mio portiere. Poi al minuto di recupero, primo tempo, quantesesimo, abbiamo preso una palla in attiva, una punizione, l'unico errore che ha fatto il mio difensore, abbiamo preso il gol con Sekoum. Secondo tempo, pronti via, l'unico errore con palla in gioco, in uscita, abbiamo preso una ripartenza, ma poi penso che siamo stati lì, li abbiamo tenuti lì, loro giocano soltanto sulle ripartenze, sfruttando le qualità, magari di testa, ma non avevamo rischiato niente, anche perché avete ripreso la gara, quindi ti puoi vedere benissimo che gli ha conosciuto pure per la seconda tempo in operoso. Abbiamo avuto due occasioni, mi dà fastidio perché 3-0 è stato bugiardo, secondo me, non so cosa ha detto il mio collega, però poi sul 2-0 a 5 minuti alla fine abbiamo fatto il 2-1 regolare perché c'è il difensore avversario che lo tiene in gioco a Palazzo e da lì, ripartenza, poi abbiamo preso il 3-0. Mi dà fastidio, mi dà fastidio perché, ripeto, il risultato è pesante, io devo soltanto ringraziare i miei ragazzi perché sono stati molto attenti, hanno giocato tanto tutto quello che avevano dentro, quindi ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo subito al Cus. La vostra è una squadra che sicuramente farà parlare di sé nelle zone alte della classifica, quindi brucia ancora per perdere di più questa sorta di scontro diretto, anche se siamo ancora all'inizio stagione. Sì, hai ragione perché, ripeto, l'avevamo preparato abbastanza bene, per 45 minuti siamo stati bene, bene, bene in campo, non hanno calciato mai in porta. Ci dà fastidio, dobbiamo fare tesoro perché purtroppo quando giochi con queste squadre il dattilo a giocatori importanti, appena sbagli un passaggio, un'uscita, rischi di andare in difficoltà, cosa che è successo. Davide Testa, è arrivato anche il tuo timbro, un 3-0 che vi mantiene in testa la classifica a punteggio pieno. Sì, abbiamo portato una partita a casa meritandola, tutta la partita abbiamo giocato noi, loro penso che non hanno fatto neanche un tiro in porta. Abbiamo vinto 3-0 e già ci godiamo questa giornata e pensiamo da domani avanti subito a Castellammare. Che pressioni ha il Davide Testa di questa società, di questo dattilo noir e di quello che gli aspetta in questa stagione? No, Davide Testa non c'è nessuna pressione, Davide Testa è quello che ha fatto sempre durante gli anni, giocando e giocando per la squadra e portando sempre i risultati a casa. Domenica prossima trasferta sul campo del Castellammare, l'unica squadra, dicevo, al mister che vi ha battuto seppure in Coppa Italia. Che partita sarà? Sarà una bella partita, siamo ancora un po' arrabbiati per il discorso che abbiamo uscito nella Coppa Italia e domenica penso che cambieranno tante cose, perché la Coppa è una cosa e il campionato è un'altra cosa. Angelo Orallo, una bella vittoria per il dattilo noir, 6 su 6, chiedente, sta a putteggio pieno. Sì, siamo contentissimi della sesta vittoria e oggi abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo lì col cuore e cercando di giocare e fare sempre il meglio e quindi siamo stati molto bravi e vorrei fare proprio i complimenti ai miei compagni e a tutti. Che pressione hai avuto di questo inizio di stagione e secondo te dove può arrivare realmente questa squadra? Allora, noi siamo una grande squadra, lo stiamo dimostrando con questa sesta vittoria consecutiva e ancora possiamo fare tanto e abbiamo dato secondo me ancora poco, tutti noi me compreso e quindi speriamo che passando il tempo si migliori sempre di più sia il gioco e speriamo che arrivino sempre i risultati. Prossima gara sul campo del Castellammare, una squadra che conoscete bene, l'avete già affrontata due volte. Sì, con il Castellammare diciamo che è una rivincita perché c'è stato il torno di Coppa Italia che abbiamo perso e siamo usciti dalla Coppa Italia e quindi sarà un'altra guerra, un'altra battaglia che noi affronteremo sempre come abbiamo sempre fatto con il cuore, il sacrificio e soprattutto esprimendo magari un bel gioco.